...sbatta la porta, sbatta, 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 sbatta così forte che... Beh, era tempo che Pirandello sbarcasse, diciamo così, con il suo teatro in maniera così dilompente a Valdergia Teatro San Barnabo. Un successone. Beh, sì, sicuramente sì. Fra l'altro bisogna ringraziare l'assessore Cristina Ferro perché è stata lei che ha fortemente voluto questa cosa su Pirandello. Ne parliamo a dicembre, ci vuole qualche mese perché la burocrazia è quella che è per far partire tutto. È partita. Chiaramente sapevamo che era una rassegna destinata non tanto a un pubblico di nicchia vero e proprio, ma sicuramente non per tutti, anche perché c'è gente appena sento Pirandello pensa ai giganti alla montagna se scanta. Invece ci sono cose molto piacevoli, infatti sono state fatte anche cose divertenti di Pirandello. Il risultato c'è stato e per questo oltre che all'assessore, all'amministrazione comunale, al sindaco, va ringraziata la città di Valderice, che ha ben risposto, anche perché, soprattutto mi riferisco alle realtà locali, anche se a livello amatoriale, hanno risposto in parecchie anche loro. Quindi accettando il confronto si cresce. Poi qualcuno ha voluto restare nel suo giardino, ma questo è nel gioco delle cose. Stasera è l'ultimo spettacolo, si attende il pianone. Ecco, questa sera è scoppiettante, perché, ahimè, siamo stati costretti a rinunciare alla presenza di Fabio De Vino, perché per motivi tecnici o lo sfostamento da Roma si andava a intersegare con altre cose. Chiaramente nel cassetto tieni sempre qualcosa e riproporremo stasera un cavallo di battaglia, dove ci sarò anch'io, da semplice scritturato, faccio solo l'attore stasera. Mario Pupella, Benedetto Raneli, Assunta Battaglia, Ciccio Russo, ma un cavallo di battaglia abbiamo fatto più di 500 repliche di questo spettacolo, quindi se va male è solo colpa nostra. Aspettiamo che il pubblico ci venga a lanciare i pomodori.